9 giugno Villa Simius In occasione del ritiro della nazionale femminile viene presentata la nuova collezione FIGC Training Donna. Un look più moderno e femminile e un fitting più aderente caratterizzano questa collezione che segue da vicino il design della divisa da gioco Combat. 17 giugno La Roma, vincendo il match decisivo contro il Parma, si laurea campione d'Italia per la stagione 2000-2001. Un sogno lungamente atteso e inseguito da migliaia di tifosi diventa finalmente realtà. Dopo 15 anni, un grande ritorno per il marchio K in giallo-rosso. Torino, 18 giugno Il signore degli anelli al Basic Village Yuri Checchi, il ginnasta campione olimpico ad Atlanta 96, partecipa all'incontro Stile Sport nell'ambito della rassegna Parole Incrociate, in compagnia di scrittori, giornalisti e del presidente Marco Boglione. Germania, 25 giugno Prendono il via gli europei 2001 di calcio femminile. Le ragazze di Carolina Morace superano di slancio la Danimarca, ma sono fermate sull'1-1 dalle campionesse olimpiche della Norvegia. Le attende un importante match contro la Francia per guadagnarsi la qualificazione alle semifinali. 29 giugno Nei locali del Basic Village di Torino si svolge l'assemblea degli azionisti della BasicNet SPA. Il consiglio di amministrazione al gran completo si è presentato all'azionariato per l'approvazione del bilancio consolidato e per altre importanti verifiche societarie all'ordine del giorno.